Cerchiamo di capirci, prima di finire tutti in bambola sulla piattaforma logistica di Valleufita, il problema non è se si farà mai, esplicitamente il governo ha detto o fatto trasparire il contrario, ieri peraltro c'è stata la impegnativa dichiarazione del Vice Ministro Rixi che, parlando a nome del governo, ha ribadito è una infrastruttura strategica e la faremo dichiarazione ancora più impegnativa, in qualche modo rassicurante perché è stata pronunciata nello stesso momento in cui l'orientamento del governo sui progetti del PNRR è quello di rinunciare a qualche opera irrealizzabile piuttosto che dire non siamo stati capaci di spendere la piattaforma logistica, non dovrebbe rientrare tra le opere irrealizzabili. Il problema non è se si farà, ma quando si farà non legare, per esempio la sua contestuale realizzazione alla stazione Irpinia rappresenta un legittimo punto di domanda. Per quasi due anni l'universo mondo si è distratto per risvegliarsi di soprassalto quando Rete Ferroviaria Italiana ha detto che 26 milioni non bastavano e che la localizzazione andava cambiata. Strano, il soggetto attuatore a cui era stata formalmente affidata la piattaforma logistica due anni dopo e senza aver fatto neanche un disegnino di fatto fa ripartire le cose da zero. Perché? Ed è questo un altro legittimo punto di domanda sul quale io ho cominciato a raccogliere delle risposte che per il momento tengo per me. Quando si farà? Se a tutt'oggi non si sa bene dove prendere quei 60 milioni che mancano, non si riesce a trovare quella che è una goccia nel mare di miliardi delle risorse del PNRR per un'opera che pure viene considerata strategica e irrinunciabile. Allora che si fa? Si taglia la testa al toro, i 26 milioni del finanziamento iniziale investiamoli per opere correlate alla costruenda piattaforma e nel frattempo andremo a trovare da qualche parte gli 80 milioni che servono, leggi, fondi europei di coesione e sviluppo che però sono ancora bloccati e ancora non vengono trasferiti alle regioni. Se nel frattempo dovesse realizzarsi lo scalo merci sannita di Ponte San Valentino, absit, ogni vieto campanilismo e la piattaforma Ufita sarà ancora di là da venire, qualcuno potrebbe osservare. Facciamo due poli a sette minuti di treno l'uno dall'altro, ottimisti sì, ma con giudizio senza il quale si finisce per fare gli asini in mezzo ai suoni.